siamo qui con Simone Rossi company owner di Gateway allora io le chiederei prima di tutto di raccontare per chi non lo sapesse già cosa fa la società gateway.com è diciamo il primo portale immobiliare italiano che si occupa solo esclusivamente di promuovere immobili in Italia verso acquirenti stranieri quindi noi facciamo un po' da punto di riferimento da canale per tutti i milioni parliamo veramente di tantissimi numeri di acquirenti stranieri che sono interessati sono innamorati dell'Italia e desiderano acquistare un immobile in Italia e in più facciamo ovviamente anche da tramite, da punto di riferimento per le tantissime agenzie che invece vogliono investire nel mercato degli acquirenti stranieri perché è un mercato molto ben consolidato ma anche in forte crescita ci sono delle soluzioni immobiliari o delle destinazioni geografiche che interessano più di altre in Italia agli investitori internazionali più che zone che interessano di più degli altri ci sono zone che si promuovono meglio e zone che si promuovono peggio mi spiego meglio l'Italia è bellissima dappertutto dal nord al sud dalla valle d'Aosta a Lampedusa passando dalla Sardegna eccetera quindi qualsiasi zona in Italia è affettibile per il mercato estero che offre delle bellezze comunque completamente diverse perché il paesaggio che magari hai a Palermo è completamente diverso da quello che è Toscana o da una città come Venezia o quello che ti offre la Puglia quindi c'è una diversità enorme e questo è quello che attrae maggiormente gli stranieri dall'altra parte però c'è bisogno di promuoversi quindi c'è quello che è conosciuto e quello che è meno conosciuto la Toscana ovviamente ha iniziato a promuoversi nei primi anni 50 quindi un mercato ben consolidato da oltre 70 anni che ci sono stranieri americani, inglesi che hanno iniziato a comprare nel secondo dopoguerra case, casolari lì tanto è vero che hanno rinominato la zona dei Chianti come Chianti Shire e quindi quelle sono zone molto ben conosciute altre zone invece che stanno iniziando magari adesso a emergere e quindi stanno iniziando a promuoversi adesso e una volta che iniziano a farsi vedere trovano l'interesse da parte dell'acquirente straniero perché comunque sono zone molto attrattive anche con prezzi molto interessanti Ma al di là di quelle che poi sono le iniziative diciamo così di marketing territoriale a livello locale cosa invece può offrire la vostra azienda agli agenti immobiliari che vogliono farsi conoscere nei mercati internazionali? Noi offriamo tantissima visibilità il punto di forza di Gateway è che è nato per il mercato estero noi facciamo solo esclusivamente quello siamo specializzati in quello quindi il nostro punto di forza è quello invece da parte dell'acquirente straniero non offriamo soltanto una lista di immobili ma offriamo tantissime informazioni che spesso nella rete comunque sono forvianti o non sono complete o spesso sono anche riempite da stereotipi eccetera invece noi cerchiamo di offrire sempre un'informazione molto molto accurata e facciamo promozione del territorio perché alla fine quello che si vende in realtà non è la casa perché una casa da una parte o dall'altra una volta che la persona ha in mente che tipo di casa vuole una camera, due camere tot metri quadri piano terra giardino eccetera quello che si vende è il territorio quindi tutti quanti possono avere una casa con qualche camera con determinati metri quadri eccetera ma loro si devono innamorare di quel territorio gli devono dire sì ok una volta che compro la casa voglio passare sei mesi all'anno qua tre mesi all'anno qua oppure una volta in pensione voglio trasferirmi in questa zona e viverci quindi si vende effettivamente il territorio la casa poi l'immobile è passatemi il termine un accessorio ha detto quindi voi siete specializzati nella promozione a livello internazionale ma sappiamo anche che ci sono dei gusti delle esigenze delle preferenze differenti tra una cultura e l'altra tra una geografia e l'altra a questo proposito so che voi avete investito anche negli annunci in varie lingue straniere anche nei sistemi per le chat multilingue ci puoi raccontare come vi muovete su questo fronte anche se c'è qualche aneddoto sì allora noi è diversi anni che investiamo in intelligenza artificiale abbiamo fatto anche una partnership anzi siamo in partnership e collaboriamo con l'università politecnica delle marche che comunque a livello di studi sull'intelligenza artificiale computer vision e NLP anche con l'università di macerata tutte marchigiane dove siamo noi come ufficio sono molto presenti e diversi anni che appunto investiamo in queste tecnologie abbiamo creato noi un nostro modello di traduzione che è specifico per il mercato immobiliare quindi abbiamo proprio insegnato alla macchina e delle reti neurali a tradurre quello che è il linguaggio del mercato immobiliare quindi nello specifico settore è sicuramente uno dei migliori se non il migliore traduttore automatico che c'è molto meglio anche di Google che è considerato comunque uno dei più avanzati il nostro in uno specifico è molto migliore ottiene dei punteggi maggiori da diverso tempo noi lo facciamo già per le descrizioni degli immobili quindi molte agenzie caricano l'immobile mettono la descrizione nella lingua che loro magari già ce l'hanno perché magari hanno dei traduttori loro interni noi quelli gliele lasciamo e completiamo andiamo a tradurre le altre lingue mancanti perché il nostro sito ha dieci versioni linguistiche con questi traduttori abbiamo applicato questo modello qua in un nuovo sistema innovativo che è la traduzione simultanea di tutta la corrispondenza che c'è fra l'inserzionista e il potenziale acquirente ad esempio un'agenzia che ha un collaboratore che magari parla solo l'italiano può utilizzare questo collaboratore perché tutte le richieste mettiamo caso che da un utente tedesco o anche un cinese scriverà nella loro lingua lui riceverà le richieste tradotte in italiano potrà tranquillamente rispondere o via mail o tramite il nostro canale in italiano e l'utente riceverà la traduzione di questo messaggio nella propria lingua e tutta la conversazione si può ottenere da una parte in italiano dall'altra parte nella lingua dell'utente e se invece l'inserzionista parla un'altra lingua noi tranquillamente riconosciamo la lingua che parla vediamo che è riconosciuta anche dall'altro utente e se non è il caso non traduciamo quindi un sistema molto intelligente flessibile che abbatte completamente le barriere linguistiche e permette alle agenzie che magari hanno pochi collaboratori interi che parlano le lingue a poter trattare e lavorare con gli acquirenti stranieri mettiamoci un attimo nei panni di un agente immobiliare che vi contatta al di là di tutto il servizio che offrite lui poi ha anche la possibilità diciamo così di quantificare i risultati ottenuti grazie al lavoro professionale che mettete in campo beh sì noi offriamo tutti gli strumenti per monitorare l'andamento della pubblicità come sta andando quali sono gli immobili che ottengono maggiori risultati eccetera questo quindi sicuramente c'è c'è trasparenza in tutto quello che offriamo anzi incentiviamo molto le agenzie a utilizzare questi dati per ottimizzare comunque il loro diciamo il ritorno sull'investimento perché non tutti gli immobili magari ottengono un interesse non tanto per la tipologia di immobili ma magari c'è qualche immobile che è fuori prezzo o non ha delle caratteristiche magari appetibili non lo so l'autostrada che passa a 20 metri o tra lici elettrici che sono proprio lì vicino quindi capire quali sono gli immobili che vanno meglio che funzionano meglio e andare più verso quella direzione quindi offriamo tutte le informazioni possibili e possiamo dire quali sono i punti di forza di gateway.com rispetto a un'offerta comunque sempre più consistente di servizi professionali online quello che noi ci contraddistingue come dicevo prima è l'unicità cioè noi siamo specializzati nel mercato estero in Italia lo dico purtroppo perché è un mercato molto importante per l'Italia che sta crescendo molto non sono molti quelli che investono ancora nel mercato estero sia come potenziali competitor nostri sia altri player del mercato le agenzie lo stanno capendo ci sono zone dove noi non dobbiamo neanche parlare di mercato estero semplicemente sanno benissimo la potenzialità come ad esempio la Toscana non dobbiamo perdere tempo tra virgolette a spiegare le potenzialità del mercato estero altre zone invece dove dobbiamo fare un po' più proseliti dobbiamo un po' più evangelizzare questo mercato e far capire l'enorme potenzialità che ha perché un agente immobiliare dovrebbe cercare di conquistare investitori esteri o potenziali investitori esteri il mercato estero è un mercato complementare non è sostitutivo al mercato locale perché comunque gli stranieri cercano tendenzialmente cercano immobili che gli italiani non cercano in zone che gli italiani non cercano perché ad esempio l'italiano parliamo un pochettino del mercato della seconda casa ad esempio un milanese che vuole comprare casa dalle nostre parti sul mare noi abbiamo l'ufficio a Grotta Mare ridente cittadina dell'Adriatico siamo proprio sul mare tende a comprarla proprio sul lungomare perché dice io arrivo in vacanza parcheggio la macchina non la voglio più vedere finché non la riprendo per tornare a casa lo straniero tende non è sempre così ma la tendenza è quella di prenderla un po' più fuori dalla zona prettamente turistica per poi andarci non è un problema guidare 15-20 minuti verso il mare e per loro 15-20 minuti di macchina è sul mare perché mettiamoci nei loro panni un americano spesso guida tre quarti d'ora per andare a fare spesa o tre ore e mezza quattro ore e mezza per prendere un aereo quindi la distanza di un quarto d'ora 20 minuti dal mare per loro è sul mare o la distanza di un'ora e mezza dall'aeroporto per loro è vicinissima all'aeroporto C'è qualche paese da cui registrate una crescita di interesse verso l'acquisto immobiliare italiano? I paesi che sono più interessati ma anche per numeri comunque come il numero di abitanti anche questo in proporzione gli Stati Uniti sicuramente è uno dei mercati principali il Regno Unito anche nonostante la Brexit non abbiamo visto un calo importante di richieste della Brexit poi ovviamente tedeschi francesi olandesi svedesi tantissimo quello che noi vediamo però è una crescita di paesi che solitamente nell'immaginario collettivo non ci si aspetta per l'acquirenti esteri come ad esempio il Sud America molto dal Brasile molto dall'Argentina e anche il Sud Africa sono dei paesi che ultimamente stanno crescendo molto abbiamo detto prima dell'assistenza multilingue voi offrite quindi servizio di traduzione ed è poi la gente che deve rispondere alle richieste dell'interessato o fate anche consulenza in quel campo su alcuni temi no no lasciamo rispondere lasciamo fare il lavoro a chi sa fare il lavoro comunque il lavoro dell'agente immobiliare è giusto che lo faccia l'agente immobiliare noi ci occupiamo della traduzione però diciamo l'esperienza ce la deve mettere l'agenzia immobiliare noi siamo lì comunque a disposizione per dare tutti i consigli e molte agenzie si chiamano anche per capire come strutturare magari una strategia di comunicazione o di impostare meglio le tipologie di comunicazione come comportarsi eccetera però poi ovviamente lasciamo spazio alla professionalità alla serietà delle singole agenzie quindi possiamo dire che siete dei facilitatori rispetto a quella che è il core business dell'agente immobiliare assolutamente sì e noi ci teniamo molto a non sostituirci mai al lavoro dell'agente immobiliare come anche nelle traduzioni se tu sai benissimo una lingua noi non te la andiamo a tradurre lasciamo la tua a noi semplicemente andiamo ad aggiungere quello che tu non hai o non riesci ad avere quindi esatto siamo dei facilitatori e in più aggiungiamo quello a cui magari la gente non riesce ad arrivare come altre lingue particolari e quindi il vostro target di clientela è composto da le reti dalle singole agenzie o addirittura parlate con ciascun professionista dell'immobiliare con le singole agente quindi noi abbiamo un po' di tutto c'è da dire che l'agenzia diciamo indipendente ha un po' più di proattività si lancia un pochettino di più verso questo mercato però ultimamente stiamo riscontrando e stiamo facendo anche diverse partnership con diversi reti con diversi franchising anche loro stanno iniziando ad avere un forte interesse verso il mercato estero e questo ci fa ci fa molto piacere noi trattiamo tutta l'Italia quindi ovviamente chi ha intenzione di trattare l'Italia chi ha intenzione di vendere immobili ad acquirenti stranieri da noi è il benvenuto abbiamo detto quindi come esempio località sul mare immagino anche montagne e laghi ma c'è interesse da parte dei stranieri anche per le città? sì assolutamente sì città d'arte i paesini comunque borghi i borghi medievali sono un gioiello sono una perla quindi c'è un interesse enorme sia per le città d'arte anche se magari l'acquisto è un po' più verso l'investimento quindi io acquisto magari un appartamento nel centro storico di Firenze lo utilizzo qualche settimana ma poi magari faccio un affitto tipo Airbnb o così di questo genere ma vanno tantissimo i borghi va tantissimo la campagna va tanto quello che è l'italianità loro quello che vogliono vivere è l'esperienza dell'Italia si innamorano dell'Italia sono innamorati dell'Italia è un colpo di fulmine che spesso arriva in età molto giovane quindi magari sono i genitori che li portano in Italia loro se ne innamorano e coltivano quest'amore per tanti anni finché non arrivano ad un'età matura di maturazione sia di età ma anche economica dove magari possono realizzare questo sogno e quindi è un sogno che quando loro realizzano sono ben contenti e vogliono vogliono vivere quello che è lo stile di vita italiano il nostro modo di vivere ne sono innamorati e quindi anche il territorio attorno alla casa deve rispecchiare questo stile di vita Quindi agli agenti immobiliari fate consulenza anche su come scrivere gli annunci su quali messaggi far passare? Sì noi cerchiamo di dare dove ce n'è bisogno perché ci sono tantissime agenzie che hanno già una buona esperienza sul mercato estero però chi magari si sta facciando adesso noi cerchiamo di dare tutto il supporto sia anche come scattare le foto quali sono le foto migliori insomma dei consigli specifici per il mercato immobiliare noi cerchiamo di dare tutta l'assistenza possibile sulla descrizione come impostarla quindi facciamo proprio dei corsi dei seminari per spiegare per far sì che si possa ottenere al massimo il massimo di questa visibilità Grazie mille allora Simone Rossi Grazie a voi